ah lo stesso ecco grazie basta grazie non vorrei che gli altri puoi no non ti preoccupare no di là ce n'è ah ce n'è bene se ne vuoi ancora dopo dimmelo eh senz'altro e vuoi subito? si è veramente cattivo ecco ok grazie grazie mille non vorrei poi che gli altri no non ti preoccupare di là ce n'è ah ce n'è? si se ne vuoi ancora dimmelo poi senz'altro e vuoi assaggiare? subito si mmmm molto buono non è durino se ne vuoi ancora dopo dimmelo eh senz'altro vuoi subito quando? è un padorino? è un padorino? no 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 Grazie.